Riprende, dopo tre anni di stop causa pandemia, l'attività didattico, culturale ed ambientale del progetto Conoscere il fiume, dedicata alle scolaresche di Pordenone per riavvicinare la città al fiume Noncello. Un'ulteriore opportunità per valorizzare quest'oasi naturale a due passi dal centro storico, da proporre anche come risorse veicolo di attrazione turistica e promozionale del territorio. Dopo tre anni di una pandemia che ci ha segregato in casa, finalmente riprendiamo queste meravigliose escursioni scolastiche, didattiche. Sono veramente soddisfatto perché la macchina organizzativa con in testa il comune di Pordenone, con il sindaco e il vice sindaco, sta funzionando molto bene. Abbiamo un piccolo problemino logistico e tecnico, la penuria d'acqua, ma nonostante questo aspetto ci avviamo a navigare il fiume, abbiamo fatto delle escursioni per vedere la situazione e se abbiamo scelto di iniziare è perché tutto sommato vogliamo partire, sperando che il CELC assista, come si usa a dire, e portare in porto questa bella iniziativa. Quasi 800 alunni delle quarte, delle quinte elementari e anche delle prime medie possono usufruire di questa gita. Il numero così alto di adesioni dà il senso di un'iniziativa che ha raggiunto un pieno successo. I bambini e i ragazzi possono ammirare il nostro fiume, possono viverlo, a bordo c'è anche una guida naturalistica che spiega a loro la natura che li circonda. Direi che è un buon modo per far fare vita all'aria aperta ai nostri ragazzi, insegnandogli anche l'ambiente che li circonda, in particolare il noncello, il cuore vero di Pordenone. Tutto questo grazie alla collaborazione dei gomonauti che si sono messi a disposizione con l'appoggio del Comune.